La carovana degli agricoltori ha ripreso il cammino questa mattina sulle strade cittadine, invadendo le principali arterie di collegamento. Un grido di allarme a suon di claxon e slogan per un fiume di trattori e mezzi agricoli che dopo la prima giornata di proteste dello scorso venerdì è tornato a manifestare contro le vessazioni delle politiche dell'Europa che li vuole confinati ai margini di una produzione orientata sempre più al sintetico, il cosiddetto cibo del futuro. Una centralità, quella dell'agricoltura e dell'allevamento, che anche a Rieti è stata ribadita con forza e determinazione, tanto da raccogliere ancor più consensi in termini di presenze rispetto alla prima giornata di proteste. A sostenere i tanti che questa mattina si sono radunati al Foro Boario, anche l'influencer ternano Zio Command, personaggio noto nel mondo dei social, solidale con la categoria, che ha sposato la causa e dato voce al movimento reatino. Non ci fermeremo qui, hanno chiarito con fermezza gli operatori di un settore, quello dell'agricoltura, la cui importanza fondamentale nell'economia del paese è troppo spesso messa in discussione, a scapito di lavoratori, famiglie e produzioni ormai allo stremo e sulla soia del collasso.